E siamo arrivati alla fine anche di questa ultima puntata di Agreste 2014 e siccome due dei fili conduttori di questa edizione sono stati la multimedialità e quindi il guardare al futuro ma anche il non dimenticare il passato e le nostre radici, io qui al mio fianco ho un ospite particolare, Maurizio Andreotti, già dirigente del settore agricoltura della provincia di Ferrara che però oggi qui è in veste di scrittore, infatti ha pubblicato un libro che coniuga perfettamente passato, presente e futuro dell'agricoltura ferrarese. Buongiorno Maurizio, diciamo subito che il libro si intitola L'agricoltura a Ferrara nel Settecento, consigli, aneddoti e aforismi di Domenico Candy, parroco di Campagna. Di che cosa si tratta, come è nata questa idea e che consigli si possono trarre nel 2014 dall'agricoltura ferrarese del Settecento? Domenico Candy, che è stato parroco di Tresigallo dal 1743 fino alla sua morte, è venuta nel 1795, ha scritto un libro di agricoltura. Io ho cominciato a interessarmi a questo libro quando ancora operatore nel settore della produzione integrata mi interessava sapere come funzionavano allora la difesa e la concimazione e ho cominciato a appassionarmi a questo testo che ha molti elementi, se vogliamo, di attualità. C'è un tipo di azienda proposta che è molto interessante soprattutto per i rapporti che ha con l'ambiente e soprattutto per come vengono impostate le pratiche agronomiche. Quindi diciamo che un agricoltore di oggi può trarre anche degli insegnamenti? Può trarre alcune indicazioni che, guarda caso, sono anche contenute nel nuovo PSR, in quanto gli elementi naturali allora erano parte integrante dell'azienda, di tutte le aziende, in quanto anche per risparmiare terreno la piantata, cioè alberi, tutori della vite, erano posti ai lati degli appezzamenti coltivati proprio perché in questo modo non si disperdeva niente, anche in particolare l'azoto, il concime che allora era solo organico, nei corsi d'acqua. Quindi diciamo era una produzione integrata antelitteram, possiamo dire? Certo, molte cose diciamo sono interessanti perché consociazioni, rotazioni erano molto più rigide di oggi e hanno permesso poi anche di arrivare al giorno d'oggi con questo tipo di agricoltura che poi noi abbiamo cercato poi di continuare magari facendo anche la produzione integrata che in gran parte ricalca poi queste indicazioni. Ma il quadro agricolo di allora è simile al quadro agricolo di oggi, cioè l'agricoltura in provincia di Ferrara è cambiata tanto, poco, non è cambiata, in che cosa? È cambiata perché ad esempio le culture di cui Ferrara era famosa erano ovviamente il grano e soprattutto la canapa perché in quel periodo in cui tutti i trasporti marittimi avvenivano con navi a vela. Le vele e i cordami che si producevano con la canapa prodotta Ferrara erano molto ricercati, tanto che era sede di consolati esteri. La frutta però ancora non c'era, vero? La frutta era praticamente qualcosa che era al servizio dell'agricoltore, in quel caso del Boaro, che aveva il brolo, quindi aveva circa 200 piante che poteva essere per il suo consumo familiare, poi anche per il proprietario terriero ovviamente e in parte anche venduta nel mercato vicino di Ferrara. Chilometri zero? Chilometri zero anche allora, certo. Io ringrazio Maurizio Andreotti e per tutti coloro che fossero interessati a leggere questo libro vi ricordo che lo trovate in Biblioteca Riostea oppure rivolgendovi direttamente alla redazione di Agreste.